Nei giorni scorsi si è celebrato un matrimonio VIP, e le foto dell'evento hanno suscitato ammirazione e felicità nei follower della coppia. Di recente alcune coppie famose sono scoppiate, ed è un'estate molto intensa da questo punto di vista. Solamente pochi giorni fa Mirko e Perla hanno annunciato la fine della loro relazione e già si vocifera circa un nuovo presunto flirt con protagonista l'ex vincitrice del Grande Fratello. Mentre alcuni si lasciano altri si sposano. In comune hanno spesso la partecipazione ai reality show. Come il Grande Fratello. Il 5 agosto 2024 si è celebrato un matrimonio da favola. Come è stato definito. Anche se le foto sono state pubblicate dopo. La sposa era divenuta famosa anche per essere entrata nella casa in una delle edizioni del GF. Lui, invece, è un giocatore di calcio famoso. Di chi stiamo parlando? Coppia VIP si sposa. Lei è una ex GFina. Le foto del matrimonio della bellissima ex concorrente del Grande Fratello e del suo compagno storico hanno suscitato tanta felicità. I follower hanno fatto i complimenti alla coppia. E inviato tanti cuoricini. La bellezza di lei è stratosferica. E insieme al marito appare radiosa. La location scelta per l'evento è il Lago di Como. Forse qualcuno ha già capito che stiamo parlando di Valentina Bonariva. Che ha pronunciato il fatidico sì giurando eterno amore ad Alberto Frigerio. Valentina ha partecipato all'edizione del Grande Fratello del 2015 in cui vinse Federica Lepanto NDR, ma era già nota perché aveva concorso in rappresentanza dell'Italia Miss Universo. La coppia non si è conosciuta all'interno della casa. Ma due anni dopo il reality. Ovvero nel 2017, durante un evento sportivo. Alberto Frigerio è infatti un ex sportiere. E all'epoca giocava nell'FBC Saronno. Chi ha seguito la coppia durante tutti questi anni ricorda che Valentina ha accompagnato sempre il compagno durante le partite e gli impegni sportivi. E infatti anche tanti appassionati di calcio hanno fatto le congratulazioni per il matrimonio. Le foto dell'evento stanno spopolando in rete. Perché Valentina e Alberto sono davvero bellissimi. E la location scelta è davvero da sogno. L'ex GFina, oggi 35enne, vanta una ricca carriera in televisione e nel mondo dello spettacolo. E ha raccolto tantissimi consensi. Sui social è molto attiva e condivide tanti momenti quotidiani coi suoi follower. Nonché i suoi successi. Valentina è modella e anche insegnante di danza e in televisione tra i tanti progetti vanta anche la conduzione di due programmi sportivi.